Gravi indizi di contatti con i trafficanti. Con questa accusa la Juventa, un peschereccio battente bandiera olandese di 33 metri, è stata sequestrata su ordine della procura di Trapani. Dalle indagini iniziate a marzo si evince che sono almeno tre i casi in cui alcuni componenti dell'equipaggio della nave avrebbero avuto contatti con i trafficanti di migranti libici e sarebbero intervenuti in operazioni di soccorso senza che i profughi fossero reali situazioni di pericolo. Per il PM dunque il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è palese. La ONG tedesca è tra le altre che alcuni giorni fa hanno rifiutato di firmare il codice di condotta preparato dal Viminale, firma sulla quale il ministro dell'interno Minniti è categorico senza non operano. Ed è arrivata nelle acque libiche la nave della Marina italiana comandante Borsini, pattugliatore d'altura dopo l'approvazione alla Camera della missione in Libia. Una missione, ha sottolineato il premier Gentiloni, che vuole essere non aggressiva ma di sostegno. In risposta ci sarebbero le presunte minacce del generale Haftar, rivale del premier libico Al Sarai, di bombardare le navi italiane. Tutto ancora da accertare, ma sembra che già una prima avvisaia vi sia stata. Nel tardo pomeriggio di ieri due pescherecci, Aliseo e Anna Madre, entrambi iscritti al compartimento marittimo di Mazzara del Vallo, sono stati aggrediti da un'imbarcazione con ogni probabilità tunisina. Si trovavano in acque internazionali, non distanti dal confine con la Libia. Il pericolo è stato sventato con l'intervento di un elicottero militare italiano e di un'unità navale della Marina Tunisina.